Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Al Mirante forse non sarebbe mai andato, che so io, a uno spettacolo teatrale dopo la morte di Aldo Moro, oppure Berlusconi stesso, ritorno, va a Onna e dopo non va a una festa. Cioè glielo dico perché l'abito che tu indossi... Eh no, questo però è una questione istituzionale. Ti hanno fatto i processi per le feste. Più che altro riesce a far uscire vite. No, non diciamo che se... All'epoca di Al Mirante non c'erano i social, non eri inseguito. No, no, no. Non eri inseguito ma non li assecondavi neanche. Non eri inseguito ma non li assecondavi neanche. E vorremmo dire che hai un altro tipo di politica? Allora, io credo che però c'è un diritto a stare insieme con i tue quei amici, a poter festeggiare con i tueblano, anche che c'è un video perché ti ricordi e poi lo mandi sui fotografici. nessuno nega che uno debba festeggiare il suo cinquantesimo compleanno io non chiedo che si può imputare agli organizzatori della festa di aver voluto associare l'uno e l'altro a loro perché lì ci sarebbe stata la malafide siccome questa cosa non l'ha pensata nessuno ma solo gli ci ha fatto lo saccarlo non capisco questo vittimismo questo senso dell'assedio è l'assedio è la parola che condivido però Stora ascolti un attimo le domande il tema è siccome la politica è fatta di simboli e lei questo lo può insegnare da lunga data i social moltiplicano i simboli allora se tu usi i social per diffondere i tuoi simboli politici nel momento in cui decidi di far partire questo video stai mandando un segnale che è speculare e simmetrico rispetto a quello che non hai mandato non andando a reddere omaggio alle vittime di Cutro perché anche quello era un segnale simbolico che non c'è stato di notte si dovranno andare quando è fine la pensione di Ministra beh insomma si può arrivare in ritardo a una festa che tra l'altro non si sa neanche che c'è perché era sorpresa tutto quello che c'è attorno all'organizzazione di queste cose ma guardi a lei che lo sta dicendo qua nessuno l'ha detto non mi sembra precedo le vostre no ma lei ascolta invece che precedere se vuole così poi commenta invece che precedere io dico solo una cosa intervengo quando sento cose che non condivido ma non mi metta in bocca parole che ancora non ho detto poi le do ragione ancora è l'intenzione prego presentiamo Marianna no quello che che